a Brusio, altrimenti si sente. Allora, un ringraziamento, dicevo, a tutti voi presenti, a signore e le signore, e un nuovo ringraziamento anche a Lucia Ferratia Capodaglio, Enrico. E volevo far notare che ieri sera, non so chi di voi era qui presente, e gli applausi non ci sono ancora, direi, soppiti per la bella relazione, e bella serata che hanno organizzato il Comune con Paolo Teobaldi, con Lucia Ferrati e con Enrico Capodaglio. Questa è una città fortunata, credo, perché racchiude contemporaneamente uno scrigno con tanti tesori, e li voglio sottolineare, non solo quello di Enrico Capodaglio, di Teobaldi, di Pallucchini, Massimo Bini, di Battistini, di Frigerio, di Lucia Ferrati, di Riccardo Paolo Guccioni, di Roberto Bertinetti, che è scomparso da poco, di Claudia Rondolini, di Marco Gallizioli, e potete dirne tanti altri. Tutti, ciascuno con la propria dote, talenti e peculiarità, e tutti accomunati, dicevo, dall'essere il nocciolo duro, la parte determinante e caratterizzante dell'Università dell'Età Libera. Quindi ne siamo particolarmente orgogliosi e consapevoli, e nello stesso tempo anche molto grati, perché queste performance non vengono così spontaneamente, ma certamente dagli studi, dagli approfondimenti, dalla dedizione della propria vita a quella che è la cultura, e la letteratura, e l'arte. La loro condivisione, quindi, di questi personaggi che ho citato al nostro progetto, ci permette di mantenere nella città quel ruolo che sostengo sempre di motore culturale indipendente che ci siamo prefissimi di essere fin dall'inizio del mandato di questo comitato dell'Università dell'Età Libera. Quindi ne siamo sempre riconoscenti e grati, e vi ringraziamo ancora. Passiamo invece alla serata di questa sera, il confronto che è il secondo dei tre incontri del seminario classici viennesi. Il tema è Joseph Roth, la marcia di Radeschi. Roth è una pietra miliare della narrativa moderna, lo sappiamo abbastanza bene tutti. In questo romanzo narra il fulgore e la decadenza dell'impero austro-ungarico attraverso le vicende di tre generazioni della famiglia Fontrotta. Non dico di più, perché poi ci saranno Enrico e la Lucia che ci delizieranno. Grazie molto e grazie a voi. Ora fumavano, tutti e tre in silenzio. Gli sguardi di Carl Joseph si indirizzarono verso l'effigie dell'imperatore sulla parete di fronte. Là c'era Francesco Giuseppe, nella candida divisa da generale, la larga sciarpa vermiglia di traverso sul petto e l'ordine del toson d'oro al collo. Il grande cappello nero da Feldmaresciallo, col suontuoso pennacchio verde-azzurro di piume d'airone, poggiava accanto all'imperatore su un tavolino dall'aria malferma. Il quadro sembrava appeso a grande distanza, più in là della parete. Carl Joseph si ricordò che nei primi giorni in cui aveva preso servizio questa immagine aveva significato per lui un certo orgoglioso conforto. Allora era stato come se da un momento all'altro l'imperatore fosse potuto uscire fuori dalla sottile cornice nera e poi, poco alla volta, il comandante supremo delle forze armate aveva assunto il viso indifferente, quello solito, a cui non si faceva più caso, che esibivano i suoi francobolli e le sue monete. Il ritratto era appeso alla parete del circolo, una strana specie di sacrificio che un dio offre a se stesso. I suoi occhi, che un tempo avevano rammentato il cielo estivo delle vacanze, erano ora di una dura porcellana azzurra ed era pur sempre lo stesso imperatore. A casa, nello studio del capitano distrettuale, era appeso questo stesso ritratto, era appeso nell'aula magna della scuola per cadetti, era appeso nell'ufficio del colonnello in caserma e disseminato dovunque in tutto il vasto impero c'era l'imperatore Francesco Giuseppe, onnipresente fra i suoi sudditi come Dio nell'universo. A lui, l'eroe di Solferino, aveva salvato la vita. L'eroe di Solferino era invecchiato e morto. Ora lo mangiavano i vermi e suo figlio, il capitano distrettuale, il padre di Carl Josef, stava pure, diventando vecchio. Presto i vermi mangeranno anche lui, l'imperatore. Soltanto l'imperatore sembrava fosse invecchiato un bel giorno nello spazio di un'ora ben precisa e che da quell'ora in poi restasse chiuso nella sua glaciale e perenne argente e spaventevole decrepitezza come una corazza di venerando cristallo. Gli anni non si arrischiavano a ghermirlo, sempre più azzurro e sempre più duro si faceva il suo occhio, persino il suo favore sospeso sulla famiglia dei Trotta. Era un masso di ghiaccio tagliente e Carl Josef rabbrivitì sotto l'azzurro sguardo del suo imperatore. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Già da questo primo passo potente si coglie l'arte narrativa di Josef Roth, questo scrittore che nella sua breve vita dal 1894 al 1939, morto infatti a 45 anni a Parigi, ha scritto almeno una trentina di libri, nessuno dei quali è indegno per la sua intensità di attenzione e di amore. Abbiamo introdotto il discorso con questa figura dell'imperatore che è una specie di grandioso feticcio che giganteggia, visto che il suo regno è durato ben 70 anni e che l'impero ostro-ungarico si incarnava simbolicamente in questa figura potente e sfaccettata. Perché cos'è un feticcio dal punto di vista di Freud? Il feticcio diventa patologico quando si sostituisce a ciò che rappresenta, quando non è più un simbolo, ma conta in quanto corpo, oggetto, persona materiale e quindi l'impero ostro-ungarico vive questo difficile equilibrio in cui si cerca di rispettare l'imperatore come simbolo di un'unità, sia pure in una forma prima assolutistica e poi costituzionale, ma nel periodo di decadenza dell'impero ostro-ungarico come si vede in questa lettura e come si ascolta in questa lettura magistrale questo simbolo comincia a diventare sempre più qualcosa di inquietante, di fisico. I suoi occhi color porcellana di questo azzurro che prima risvegliava immagini di cielo terzo e nitido cominciano invece a far sentire la lama dell'acciaio, cominciano ad acquisire un carattere più freddo, più impressionante. Io mi domando se ci sia una differenza tra il narratore, lo scrittore e l'artista, perché il narratore è l'affabulatore che racconta delle storie, che sa intramare bene le sue vicende e molto spesso i romanzi di Ioseferotte non puntano sulla trama narrativa, anche se delle vicende accadono. Lo scrittore è soprattutto colui o colei che ha un'arte linguistica lessicale stilistica speciale ed è in dubbio che Ioseferotte sia un maestro dello stile, ma non è su questo che punta soprattutto il suo talento. E l'artista allora chi è? Secondo me l'artista è colui o colei che riesce a costruire un mondo, un cosmo unitario, un organismo che è quasi un poema organico con una religione dell'arte nella quale si finisce per vivere dentro e infatti è significativo che nell'opera di quest'autore non solo nella marcia di Radeschi ma anche nella cripta dei cappuccini in fuga senza fine in Giobbe ci sia proprio una specie di liturgia letteraria. La componente religiosa è importante è decisiva ma quale religione? Beh, Ioseferotte è nato vicino Leopoli in un villaggio galiziano da una famiglia ebraica però non ha mai praticato l'ebreismo a un certo punto pare si sia convertito al cattolicesimo come spesso capita in questi casi si va alla ricerca di prove e di documenti in occasione della sua morte nel 1939 non si è trovato il certificato di battesimo ma non credo che a questo riguardo possa essere questa la cosa più importante quello che interessa a noi è come il suo sentimento religioso si esprime nella sua opera come il suo sentimento possa essere nello stesso tempo ebraico e cristiano questo è stupefacente e affascinante perché è ebraico nella misura in cui c'è questa figura dell'ebreo errante che ebrei erranti è il titolo di uno dei suoi libri che fa però molto pensare all'europeo errante perché ormai diciamolo anche noi europei siamo diventati erranti nel senso che non abbiamo dei valori di riferimento così solidi e così costanti quindi da un verso c'è la figura dell'ebreo errante attraverso il sottotenente fontrotta e poi il protagonista di fuga senza fine dall'altro verso invece c'è il sentimento cristiano dell'incarnazione nel senso che non conta solo lo spirito e l'anima non contano solo lo spirito e l'anima conta l'incarnazione in un corpo e quindi in una persona in carne ed ossa in un contesto storico preciso in una vicenda concreta cioè gli aspetti fisici della vita gli aspetti materiali il modo di vestire di pettinarsi di mangiare di curarsi di vivere sono decisivi nella esistenza e nel significato religioso della vita questo anche nella cultura ebraica senza dubbio specialmente nel filone ortodosso ma nella sensibilità di Iosef Roth c'è questo forte sentimento creaturale cristiano dell'esistenza e qui farei una seconda riflessione cioè mentre il filosofo va alla ricerca dei dati universali comuni collettivi cioè i tratti del destino che ci accomunano tutti uno scrittore come Iosef Roth va alla ricerca del destino individuale il destino collettivo è qualcosa che da un verso ci spaventa ma dall'altro ci rassicura perché seguiamo tutti le stesse tappe biologiche anagrafiche e di altro genere di genere simile invece il destino individuale è qualcosa di impressionante perché capitano dei momenti nella vita si aprono degli squarci nella vita in cui ci domandiamo ma perché c'è capitata questa serie di vicende perché mi sono messo a fare questo lavoro perché abito qui perché ho queste relazioni c'è una spiegazione per tutto ma c'è qualcosa anche di misterioso poi il credente lo lega a una provvidenza altri lo legano al fatto al caso ma la capacità di Iosef Roth nei suoi romanzi è quello di essere attratto e affascinato dal mistero del destino individuale dalla rappresentazione del destino unico irreversibile di ciascuna persona che rende poetico il suo discorso è un po' come un maestro vetraio di Murano che usa la canna da soffio e regola il respiro fino a formare questa bolla magica che sagoma di volta in volta e questo capita in romanzi come La tela di ragno o Tel Savoi La ribellione nei racconti intitolati Fragole in quelli del mercante di Coralli ma soprattutto forse a mio giudizio capita in tre libri di uno di questi vi parlerò stasera questi libri sono La marcia di Radeschi Giobbe e Fuga senza fine cosa hanno in comune questi libri che sono libri sulla paternità sul carattere paterno dell'esperienza dell'esistenza già l'imperatore Francesco Giuseppe chiaramente un padre viene assimilato addirittura a una specie di Dio in terra non tanto però in quanto si presumeva fosse emanazione del potere divino in un potere assolutistico che poi si è temperato anche se gradualmente diventando potere costituzionale ma soprattutto perché almeno nella arte narrativa di Josef Roth affiora questa paternità collettiva per cui un uomo che in fondo pur detenendo un potere straordinario e quasi mostruoso era mite era discreto era tollerante che un uomo riesce a esercitare sulle più diverse classi popolari questo sentimento della paternità è tanto più scottante in quanto Josef Roth non ha mai conosciuto suo padre suo padre che era un ebreo galiziano commerciante di tessuti era una persona un po' strana poi a un certo punto in un viaggio in treno ha dato in escandescenze fatto sta che è stato arrestato ricoverato in un ospedale psichiatrico e insomma lui non l'ha mai conosciuto tra l'altro lui ha vissuto un secondo dramma perché anche la moglie anche la moglie si è ammalata gravemente la sua schizofrenia latente o qualunque malattia psichica fosse si è aggravata rendendo anche in questo caso necessario un ricovero e quindi il senso paterno di Josef Roth è molto forte però è sintomatico che mentre in altri autori come per esempio Robert Musil nell'uomo senza qualità che è sempre degli anni 30 come la tela di ragno i maggiori personaggi sono dei ragazzi sono dei figli qui l'autore è padre lui stesso cioè in qualche modo lui ha un'attitudine paterna verso i suoi stessi personaggi suscita una commozione popolare verso i suoi stessi personaggi ora in questo romanzo la marcia di Radeschi bisogna pensare subito che l'opera musicale è stata scritta la marcia è stata scritta da John Strauss dopo la riconquista di Milano nel 1848 quindi insomma hanno esalta la vittoria austriaca che si era in possessa di Milano ma è molto significativo secondo me che nonostante il titolo dell'opera sia la marcia di Radeschi tutta la storia come abbiamo ascoltato dalla lettura introduttiva di Lucia Ferrati non rimanda alla riconquista di Milano del 48 ma rimanda alla sconfitta austriaca del 59 in quella che per noi è la seconda guerra di indipendenza nella battaglia di Solferino e a Solferino gli austriaci sono stati sconfitti è stata una battaglia molto sanguinaria con 4-5 mila morti sul numero si discute in ogni caso le truppe francesi e piemontesi hanno sconfitto gli austriaci e era presente il giovane imperatore Francesco Giuseppe questo trotta quest'uomo di origine slovena lo salva buttandosi su di lui e venendo ferito intercettando il proiettile che altrimenti avrebbe colpito l'imperatore questo cambia del tutto la sua vita perché da modesto sotto ufficiale di origine contadina viene trasformato in un nobile perché l'imperatore lo rende nobile gli dà un titolo onorifico e da lì c'è una svolta profonda nella vicenda della sua vita ora come viene raccontata la guerra c'è un sentimento epico nella narrazione di Iosef Rotte ma non siamo più di fronte agli antichi greci che erano ben diversi per la loro salute vitale per la loro fermezza e unità nei valori cioè un greco a 18-19 anni dava la vita per la patria ed era caro agli dèi colui che dava la vita per la patria invece nell'impero sburgico i sentimenti dei soldati degli ufficiali che combattono sono molto più bivalenti molto più inquieti molto più insicuri in realtà tutti questi soldati ufficiali si si tengono d'occhio a vicenda come figli di un unico imperatore e sono già intaccati dal germe del dubbio dell'insicurezza del senso di vanità dei valori che è trattato in modo tremendo da Roth tanto più tremendo in quanto lo spirito militare è decisivo in tutta la sua opera e dopo vorrei fare qualche riflessione su questo spirito militare che è un tema affascinante perché molto spesso uno si trova a esercitare lo spirito militare in tempo di pace e allora insorge la domanda che significato ha essere un militare in tempo di pace e che significato ha essere un militare in quella più vasta milizia che è la milizia della vita perché la vita stessa è una milizia che impone una disciplina quindi potremmo dire che la vita militare non è che un sottoinsieme della milizia della vita maschile e femminile cioè di quella disciplina etica di quel servizio militare della vita che in qualche modo ha le sue regole ha una sua severa disciplina e questo non è un tema mio ma è un tema dello stesso Joseph Roth che vive in prima persona e che manifesta in ogni modo e che si lega strettamente proprio al tema del padre ricordo che Freud in Totem e Tabù fa risalire tutta la civiltà la storia della civiltà in una sua mitologia di pensiero molto profonda e convincente anche se non basata su dati scientifici sul parricidio cioè sul fatto che nell'orda primitiva i fratelli uccidono il padre e quindi in qualche modo lo spirito militare ha a che fare con questa dipendenza dal padre infatti tutti i soldati militano sotto il paterno imperatore che è vissuto in modo feticistico ricordo che Freud in più di una sua opera dice un uomo e una donna per diventare adulti prima di tutto devono imparare a emanciparsi dai genitori non dice ad amarli meno perché sarebbe assurdo quindi rimanendo intatto l'amore più profondo verso i genitori però deve scattare in noi un sentimento di emancipazione perché altrimenti si genera questo feticismo collettivo che rotte in modo così potente sa rappresentare e che diventa inquietante in una scena sintomatica del romanzo a un certo punto questo eroe di Solferino va a trovare il vecchio padre che non vedeva da cinque anni devo dire che un po' questa un ricorrente trucco letterario quando si parla di rapporti tra padre e figli per ragioni misteriose sono sempre anni anni che non ci si vede certo perché se uno dicesse non vedeva la madre da tre settimane non scatena nessun effetto emotivo profondo lui non lo vedeva da cinque anni c'è anche da dire che in quei tempi capitava frequentissimamente di avere rapporti con i genitori per via della guerra dell'attività più che della guerra in questo caso del servizio militare per molto tempo lui giovane dio della guerra fatto nobile dall'imperatore va a trovare il padre e chi era il padre un contadino sloveno uno che lo accoglie seduto in maniche di camicia e che dal quale lui avrebbe voluto che parlasse sloveno invece il padre gli parla tedesco ecco questo è un altro tema centrale quello della molteplicità delle lingue nei villaggi galiziani nel villaggio galiziano in cui era cresciuto Roth vicino Leopoli in Galizia c'era una molteplicità di lingue quindi si parlava tedesco si parlava polacco si parlava iddish perché l'iddish è fortemente influenzato dal tedesco ma dal tedesco molto diverso quindi questi questi uomini queste donne che crescevano crescevano senza avere quasi sempre una lingua madre perché lui stesso per esempio prima fa un corso in polacco perché la scuola era polacca dopo fa un corso in tedesco perché la scuola era tedesca uno lì si doveva adattare in base al continuo cambiamento delle situazioni giocando tra varie lingue e una lingua è una patria cambiare lingua vuol dire spatriare per quanto uno ne sappia un altro però c'è sempre una lingua materna una lingua decisiva e quindi il dialogo tra i due è già imbarazzante tra padre e figlio per le lingue perché il padre gli parla in tedesco lui invece perché dice con un figlio nobile il capitano gli devo parlare in tedesco questo è importante invece il figlio si offende perché dice come non mi parli sloveno non sono più tuo figlio perché c'è da dire che questo è un altro tema strettamente collegato al precedente c'è da dire che la nostalgia della terra il romanzo si conclude con un'invocazione della terra eterna la nostalgia molto forte in chi proviene da famiglie contadine il desiderio dell'origine perseguita non solo il protagonista della marcia di Radeschi ma quasi tutti i personaggi dei romanzi di Rotte c'è sempre questo desiderio dell'origine questo senso di essere un espatriato espatriato nella lingua espatriato nel lavoro in un impero multietnico e multilinguistico in cui ci sono almeno dieci lingue e per cui non hai mai insomma non tocchi mai terra in una patria unitaria è vero che c'è questa relativa tolleranza interrotta poi da violente repressione bisogna dire ma mediamente c'è una generale tolleranza verso le varie culture etnie i vari popoli perché non volevano che si parlasse di nazioni si doveva parlare di popoli la nazione è qualcosa di negativa che suscita violenza invece sono i popoli quelli che sono assoggettati tutti e l'imperatore è vero che c'era questa tolleranza però è anche vero che non c'era una patria reale di qui il titolo di un'opera di Claudio Magris dell'89 lontano da dove cioè questa lontananza rispetto a che cosa è una lontananza che non ha una relazione con un punto uno vive lontanamente anche nel presente anche dove si trova e da qui ecco uno del questo gioco tra lo spirito militare e la nostalgia Rotte dice sa di vedere il padre per l'ultima volta non lo vedeva da cinque anni sa di vederlo per l'ultima volta perché è perché ormai è un nobile il padre è un povero contadino e dice lo rimpiange mentre ce l'ha sotto gli occhi cioè io sto con una persona e so è però adesso la vedo ma tra un po' non la vedrò più parte chissà quando la rivedrò e quindi è una nostalgia dal vivo ecco allora che si comprende meglio come si in tutta l'opera di Rotte si innerva il discorso dello spirito militare cioè da un verso c'è questo sentimento struggente della vita nella vita tutto transita tutto passa gli affetti sono fuggevoli rimpiango una persona anche quando ce l'ho davanti non riesco a goderne la presenza perché penso Emma partirà tra poco partirà e dall'altro c'è questa disciplina questo spirito militare su cosa si basa sull'ordine sulla pulizia sull'onore quindi il soldato cosa fa il soldato lucida gli stivali lucida la sciabola è impeccabile nell'uniforme è tutto abbottonato perché sente dentro questa erranza questo sentimento questa mancanza di stabilità perché combatto contro chi combatto e questo romanzo è ambientato prima dello scoppio della guerra mondiale e quindi è un romanzo in cui tra l'altro sembra che la gran parte delle persone neanche capisca che è una guerra imminente e una delle scene finali sarà sull'attentato di Sarajevo ma prima non c'era la minima convinzione diffusa circa l'imminenza di una guerra tragica e quindi forse questo accento è il carattere nostalgico dell'opera in quanto Giuseppe Rotte la scrive nei primi anni 30 quando dopo la macelleria della prima guerra mondiale dopo la sporcizia e il dolore della prima guerra mondiale si vede quel periodo si legge quel periodo con altri occhi ma la domanda rimane contro chi è la guerra quando noi leggiamo la ginestra di Leopardi vi si parla di una battaglia degli uomini fratelli e confederati tra loro che si abbracciano con vero amor porgendo valida e pronta ed aspettando Aita negli alterni perigli cioè porgendo aiuto ed aspettandoselo e si combatte insieme contro la natura quella che veramente è rea che dei mortali madre è di parto e di voler matrigna ma qui i soldati in tempo di pace contro chi combattono contro chi lucidano gli stivali e si allacciano fino all'ultimo bottone ecco che questo spirito militare diventa quasi qualcosa di religioso cioè è un cerimoniale è una liturgia uno deve seguire un certo cerimoniale un certo rituale liturgico per esempio il bambino quando parla con il padre deve tenere il berretto contro il fianco e deve ascoltare il crepitio del polsino del padre cioè c'è tutta una serie come il campanellino nella messa il crepitio del polsino del padre perché qui è tutta una messa cioè qui c'è l'aspetto cattolico di Joseph Roth cioè la vita è tutta una messa è un insieme di rituali tra la nostalgia struggente che è un sentimento verso un padre alla fine invisibile e lo spirito militare che ci impone di fare il nostro dovere fino all'ultimo e quindi di pulire poi uno pulisce gli speroni un altro pulisce l'appartamento insomma noi dobbiamo fare ordine dobbiamo dare una disciplina dobbiamo dare una regola e quindi diventa decisiva l'acustica che è un maestro di musica Roth perché per esempio il figlio batte i tacchi tutta la sua opera è scandita da questo gesto di battere i tacchi proprio anche quelli molto spesso nell'impero sburgico anche quelli che erano per esempio magistrati funzionari amministrativi avevano una divisa e quindi battevano i tacchi si salutavano e battevano i tacchi poi non so la mosca ronza c'è sempre una mosca che ronza c'è sempre un orologio che batte ci sono sempre campane e c'è sempre la banda che naturalmente suona la marcia di Radeschi ci sono sempre le piogge scroscianti come ci sono solo ormai nei romanzi e nei film ci sono sempre la ciottolio delle posate a lodole e altri uccelli cioè questo mondo questo cosmo deve avere i suoi rituali ben precisi ma dicevo di questo spirito militare aspettando che cosa beh qui veramente viene da pensare al deserto dei tartari di Buzzati che esce nel 1940 quando tutti aspettano un nemico che però non arriva arriverà alla fine del romanzo ma durante il romanzo non arriva e quindi il sottotenente Fontrotta a un certo punto dice un giorno diventerà si diventerà tenente e poi colonnello e poi si morirà la parabola della vita viene si svolge in questo modo senza un senso molto molto preciso proprio perché in questa messa laica non c'è non c'è possibilità di battersi per qualche valore decisivo e per quanto riguarda questa nostalgia a questo punto inviterei proprio Lucia Ferrati a leggere la seconda lettura che ci fa cogliere questo sentimento di un passato che non passa allora prima della grande guerra all'epoca in cui avvennero i fatti di cui si riferisce in questi fogli non era ancora indifferente se un uomo viveva o moriva se uno era cancellato dalla schiera dei terrestri non veniva subito un altro al suo posto per far dimenticare il morto ma dove quello mancava restava un vuoto e i vicini come i lontani testimoni del declino di un mondo ammutolivano ogni qual volta vedevano questo vuoto se il fuoco portava via una casa dall'isolato di una strada il vuoto lasciato dall'incendio rimaneva ancora a lungo poiché i muratori lavoravano lenti e attenti e i vicini più prossimi come i passanti casuali quando davano uno sguardo allo spiazzo vuoto si lamentavano della forma e delle mura della casa scomparsa così era allora tutto ciò che cresceva aveva bisogno di tanto tempo per crescere e tutto ciò che finiva aveva bisogno di lungo tempo per essere dimenticato ma tutto ciò che era esistito aveva lasciato le sue tracce e in quell'epoca si viveva di ricordi come oggigiorno si vive della capacità di dimenticare alla svelta e senza esitazione a lungo la morte del medico del reggimento e del conte Tattenbach commosse e impressionò gli animi degli ufficiali dell'intero reggimento di Ulani e anche della popolazione civile si seppellirono i morti secondo i prescritti riti militari e religiosi quantunque sulla natura della loro morte nessuno dei colleghi si fosse fatto sfuggire una parola al di fuori dei propri ranghi sembrò tuttavia che tra la popolazione della piccola guarnigione fosse noto che entrambi erano caduti vittime del loro severo onore di casta e fu come se da loro in poi anche ciascuno degli ufficiali sopravvissuti recasse sul viso il marchio di una prossima morte violenta e per i mercanti e gli artigiani della cittadina quegli estranei signori fossero ancora più estranei gli ufficiali si aggiravano in mezzo a loro come incomprensibili adoratori di una remota crudele divinità di cui erano al tempo stesso le variopinte e sfarzosamente adorne vittime sacrificali si voltavano a guardarli e scotevano la testa li compiangevano persino hanno molti vantaggi diceva la gente possono andare in giro con la sciabola e piacciono alle donne e l'imperatore provvede personalmente a loro come se fossero i suoi stessi figli ma un due tre in men che non si dica c'è chi reca un altro un'offesa che deve essere lavata col sangue un altro dei talenti di Joseph Rotto è quello di immedesimarsi nelle varie prospettive in questo caso come vengono visti i militari dai borghesi è prossimo in duello che tra l'altro porterà alla morte tutti e due i contendenti e i borghesi guardano questi militari come esseri stravaganti e alieni che sono pronti a gettar via la vita per una questione d'onore che poi è anche abbastanza ridicola ma quello che mi preme più colliere è ancora questo sentimento della nostalgia una parola che deriva dal greco dolore del ritorno e in tedesco semsurt è stata molto sentita espressa nel romanticismo tedesco soprattutto di Novalis cos'è la nostalgia la nostalgia è un sentimento veramente strano perché è un'invenzione del passato nel senso che noi immaginiamo il passato che è qualcosa di immutabile e perciò di rassicurante anche se è stato molto doloroso tant'è vero che si può avere nostalgia anche di un periodo duro e doloroso della nostra vita molto spesso non dico che rimpiange ma ricorda con dolcezza con affetto un periodo doloroso della propria vita perché in qualche modo c'è una durata c'è una lealtà nella nostalgia nel senso che per esempio una nostalgia di una persona cara che non c'è più di una persona che non può più incontrare c'è una fedeltà nella nostalgia è come se uno dicesse questa persona è degna di vivere ancora è degna di vivere per sempre quindi io coltivo questo sentimento verso di lei o verso di lui la faccio continuare a vivere ed ecco qui la visione di Rotte in cui dice la compiangeva prima ancora di averla guardata l'amava due volte come una meta è come una persona è come una cosa perduta però a questo punto bisogna fare un'altra riflessione cioè la nostalgia può degenerare in malattia così come lo spirito militare può degenerare in ossessione perché proprio questa mania dell'ordine della pulizia del cosmo asburgico in cui alla stessa ora la banda suona gli speroni tintinnano la pendola suona le allodole cinguettano le posate fanno sentire i loro acciottoli è proprio questo cosmo chiuso che genera da un verso la nostalgia perché alla fine è un ordine non vitale è un ordine che si ripete ma genera anche un dolore che può diventare malato in questo caso però è un dolore storico e questa è la grandezza di Joseph Rotte cioè lui non è che esprime la sua personale nostalgia ma esprime un sentimento collettivo in un periodo europeo di profonda trasformazione secondo lui decadenza che abbraccia i vent'anni che precedono la prima guerra mondiale e che lui mette in scena non sfogando i propri sentimenti personali ma cercando di interpretare quelle passioni che i sentimenti che poi hanno concorso a produrre la prima guerra mondiale perché da questa ottica artistica che si deve sempre affiancare a quella storiografica naturalmente e non non può contraddirla ma da questa ottica artistica il maturare di questa mania d'ordine insieme a questi sentimenti collettivi di inquietudine e di erranza sono stati tra le cause della prima guerra mondiale quindi non è giusto rappresentare Joseph Rotte come un maniaco conservatore restauratore amante dell'imperatore sia perché lui è molto ironico infatti c'è una scena nella marcia di Radeschi in cui mostra insomma che l'imperatore anziano è il moccolo che gli cola nei baffi e si perde nei baffi sia perché è molto ironico e sia perché in lui non è legato realmente all'impera austrungarico questo sentimento conferma ne è che scrive i cento giorni i cento giorni sono un'opera ambientata in Francia nel periodo napoleonico e dove il padre l'imperatore è Napoleone Bonaparte che sarebbe avrebbe dovuto vedere come un netto antagonista di tutti i valori austriaci in questo romanzo non dico bello come la marcia di Radeschi ma molto suggestivo una ragazza corsa che proviene dalla Corsica è una cameriera dalle chiome rosse una donna che non è molto appariscente ma è di meravigliosa purezza e fedeltà e si innamora di Napoleone il quale va a letto con una quantità di serve cameriere offerte al Minotauro molto cinicamente per placare i suoi appetiti ma alla candida Angelina non importa lui le lava le camicie di seta rende i pantaloni di Napoleone di un bianco abbagliante annusa l'odore del suo corpo negli asciugamani umidi entriamo quasi nella perfezione è annichilita e beata uno vorrebbe dire ma tu mi stai parlando di un caso patologico sì però è tipico di Joseph Rotte tratteggiare dei personaggi che non sono più intelligenti della media anzi molto spesso sono a prima vista dico meno intelligenti in fondo sperimentiamo anche noi stessi che la nostra come dire stupidità cresce insieme alla nostra intelligenza cioè quando uno è molto intelligente in un campo poi in un altro magari ha delle palesi debolezze di cui non si accorge e la vita è intessuta di intelligenza e di stupidità e quindi anche questo personaggio questa Angelina che è innamorata dell'imperatore e che contempla i numerosi ritratti di lui sa di essere insignificante e si sente simile a una di quelle piccole mosche che strisciavano avanti e indietro lungo uno dei dipinti che ritraevano l'imperatore e arriva al punto di rinunciare a suo figlio per essere vicino a Napoleone e di andare in chiesa a ringraziare in tutta innocenza il Signore perché facesse tutto il male possibile ai nemici dell'imperatore e lui tratteggia come un mago questa immagine io lo vedo un po' come uno di quegli pittori di icone quegli artisti santi che ci fanno scoprire nell'ingenuità di certi personaggi deboli ignoranti ci fanno scoprire un valore speciale un valore un po' come dire oppiaceo che del resto questo carattere oppiaceo è tipico della letteratura degli anni trenta perché se noi leggiamo per esempio non so la foresta della notte night hood o bosco di notte del 1926 di Juna Barnes o le opere della Nemirovsky che è ucraina ma scriveva in francese tipo il ballo l'affare Kurilov oppure leggiamo il dono di Vladimir Nabokov del 1935 vediamo che c'è sempre questo clima un po' piaceo vischioso questa glassa dei sentimenti un po' appiccicosa che si vede che era un tratto del periodo tra le due guerre dal punto di vista proprio della sensibilità collettiva come anche questo rallentamento del tempo il tempo passava inarrestabile sembrava l'imperatore che in questo caso è Napoleone in certi momenti aveva l'umiliante impressione che esso non gli obbedisse più come una volta anni prima a un certo punto anche il tempo veniva stabilito dall'imperatore e invece il tempo stesso comincia a essere errante come in quest'altra serie di battute era il tardo pomeriggio dalle finestre aperte le ombre si riversavano nella stanza e strisciavano lente lungo le pareti sul tavolo c'era la clessidra di berillo molato il file sottile giallognolo della sabbia scorreva dal suo collo stretto ed empiva inarrestabile la coppa inferiore quindi in questo sentimento collettivo in questo dolore letterario che non va preso alla lettera più di tanto perché le passioni letterarie non sono esattamente le stesse della vita reale sono sempre immediate artisticamente ecco che anche la noia arriva ad avere una sua bellezza tanto che Rotte ci parla delle dolci braccia del dolore le dolci braccia del dolore ecco non vorrei darvi però l'impressione che in questo romanzo non accada nulla o accada poco perché c'è una serie di vicende cioè questi soldati se ne stanno oziosi e cosa fanno in genere i soldati oziosi o vanno cercano delle donne a volte delle prostitute o disputano tra loro dei duelli che si concludono quasi sempre con la morte di uno dei due o giocano a carte cioè ecco lo spirito militare alla fine in tempo di pace molto spesso degenera si corrompe degenera in pigrizia degenera in vanità ed ecco la terza lettura di Lucia una lettura dove si coglie sul gioco sulla storia di un personaggio che poi si ucciderà che perde tutto al gioco e dove si nota però anche questa quasi a volte un po' crudele ironia dell'umorismo di Josef Rotte quando viene preso da questi da questi attacchi diciamo di passione negativa nei riguardi del senso di vanità che lo prende prego il capitano Wagner si sganciò il colletto della giubba sul viso gli tornò il consueto colorito rossastro i mustacchi si riassettarono come per forza propria diede una manata sulle spalle di Trotta tu non hai ancora mai toccato una carta Trotta vide Capturac cavare di tasca un lucido mazzo di carte nuove e posarlo con cautela sul tavolo come per non far male alla figura colorata della carta di sotto carezzò il mazzetto con le sue dita svelte lisci come specchietti di un verde scuro brillavano i dorsi delle carte sulla loro superficie leggermente arcuata flottuavano le luci del soffitto a una a una le carte si alzano da sole stanno verticali sul filo più corto si posano ora sul dritto e ora sul rovescio si raccolgono nel mucchietto questo si dispiega con un leggero crepitio lascia che le figure rosse e nere avanzino crocianti come un breve vario pinto temporale poi si ricompone cade sul tavolo spartito in mucchietti più piccoli da questi scivolano le carte a una a una si rimettono delicatamente insieme ciascuna coprire la metà del dorso dell'altra dopodiché si apre in un cerchio una specie di strano carciofo schiacciato e capovolto ritornano a volo in fila e si raccolgono infine nel mazzetto tutte le carte obbediscono al tacito richiamo delle dita il capitano Wagner segue questo preludio con occhi avidi lui adorava le carte a volte gli venivano quelle che aveva chiamato e a volte lo fuggivano gli piaceva quando i suoi folli desideri galoppavano dietro alle fuggitive e alla fine alla fine le costringevano a tornare a volte certo le fuggiasche erano più veloci i desideri del capitano dovevano far ritorno esausti nel corso degli anni egli aveva scogitato un piano di guerra difficile da capire quanto mai complicato nel quale non si trascurava il consistema per piegare la fortuna nei mezzi dello scongiuro né quelli della violenza né quelli dell'attacco a sorpresa né quelli della preghiera supplichevole e della più bramosa seduzione una volta che al povero capitano faceva comodo una carta di cuori dovete darsi per disperato e assicurare in segreto le potenze invisibili che se la carta non veniva presto lui si sarebbe ucciso quello stesso giorno un'altra volta ritenne più lungimirante la fierezza e fare come se la carta agognata gli fosse del tutto indifferente una terza volta per vincere dovette mischiare le carte di mano sua e inoltre con la sinistra abilità che era riuscita ad acquisire con volontà ferrea dopo lunghi esercizi una quarta volta fu più proficuo prender posto alla destra di chi teneva il banco o nella maggior parte dei casi comunque conveniva combinare tutti i metodi insieme oppure alternarli rapidissimamente cioè in modo che i compagni di gioco non se ne avvedessero perché questo era il punto cambiamo di posto poteva dire per esempio il capitano con il massimo candore e se credeva di vedere nella faccia del suo compagno di gioco un sorrisetto furbo si metteva a ridere aggiungeva lei si inganna io non sono superstizioso è la luce che qui mi dà noia se infatti i compagni di gioco avessero capito qualcosa dei trucchi strategici del capitano le loro mani avrebbero svelato alle carte le sue intenzioni le carte subodoravano diciamo la sua astuzia e avevano tempo di fuggire e così il capitano non appena si sedeva a un tavolo da gioco si metteva a lavorare con la solerzia di un intero stato maggiore e intanto che il suo cervello si dedicava a quest'impresa sovrumana il suo cuore era attraversato da vampe e brividi speranze e dolori giubilo e amarezza lottava si batteva soffriva atrocemente e fin dai giorni in cui lì si era cominciato a giocare alla roulette lui elaborava astuti piani di guerra contro le insidie della pallina ma sapeva bene che questa era più difficile da sconfiggere della carta da gioco quindi altro che apologeta dell'impero austro-ungarico che conservatore che razionario in realtà è tutto il contrario cioè mette in luce la irrazionalità la superstizione lo sbando esistenziale di questi soldati che sono fedeli all'ordine e che obbediscono ma qual è il comando? il comando è puramente formale ti ordino di obbedire sì mi ordino di obbedire ma qual è lo scopo? lo scopo è la durata la durata dell'impero che è la forma di governo di regno più lunga esistente che si avvia ai 70 anni che verranno compiuti nel 18 e che quindi deve perpetuarsi deve durare nell'ordine nella pulizia sì ma perché deve durare l'impero austro-ungarico quali sono i valori che lo muovono? i valori sono la sua stessa sopravvivenza e noi siamo in qualche modo coloro che devono dominare la fortuna ma per Wagner le carte da gioco sono come i soldati che lui è abituato a comandare a smistare ma la fortuna gli si ribella contro nella vita ci sono forze più profonde più misteriose più rispetto al gioco della guerra che dà l'illusione del governo della realtà tra l'altro questi ufficiali e soldati sono sempre più consapevoli che l'armamentario austro-ungarico è piuttosto debole e arretrato e che quindi in caso di guerra non avrebbero avuto molte chance di vittoria e quando uno dei personaggi un conte polacco molto dopo un'ubriacatura molto lucidamente fa presente i dati di fatto cioè che l'impero austro-ungarico non ha una potenza militare tale da garantirgli la sopravvivenza ecco questo sentimento dello sbando si accentua e si sviluppa ma allora lo scopo di rotte è solo quello di mostrare questa ambivalenza questa duplicità con un modo struggente con un'arte magistrale no non è solo questo c'è un profondo sentimento creaturale che va verso la caritas che va verso l'amore cristiano ce lo dice una scena tra le tante e intanto ridò con uno sguardo al contesto cioè il nonno era l'eroe di Solferino colui che ha salvato l'imperatore a un certo punto questo nonno apre casualmente un sussidiario degli elementari e legge che c'è scritto si parla di lui però lo si fa diventare un cavaliere mentre lui era un fante non è gratificato non è contento che i bambini austriaci leggano nel libro di lettura degli elementari del suo gesto eroico perché dice qui si mente questa è una menzogna io non ero un cavaliere chiede udienza all'imperatore dice qui si deve correggere questo errore l'imperatore fa cambiare il libro di testo lui però si dimette dall'esercito perché ha detto no mi avete tradito con questa menzogna mi avete tradito io non posso più restare nell'esercito il figlio diventa un funzionario dell'impero austrungario di quelli in divisa di quelli quindi legi esecutori degli ordini il nipote è invece questo soldato protagonista del romanzo che si dà che è un po' allo sbando perché lui vorrebbe essere un contadino non vorrebbe essere un soldato lui vorrebbe tornare nel suo villaggio sloveno e infatti si dà l'alcol frequenta una signora una vedova che aumenta solo le sue agitazioni esistenziali presta denaro agli amici pur non avendone a sufficienza alla fine il padre dovrà chiedere un colloquio all'imperatore che lo concederà perché il figlio non finisca in galera a un certo punto ecco qual è la scena che vi volevo riferire questo padre funzionario ultrametodico con le passeggiate del quale i cittadini mettevano a posto gli orologi era legatissimo a un servo Jacques con il quale aveva tutto un gioco di relazione molto sofisticata a un certo punto questo servo muore e lui ha un'intuizione decisiva cioè capisce che il padrone e il servo sono la stessa persona cioè capisce che in realtà l'uno esiste non solo esiste in quanto c'è l'altro questo è ovvio perché sono due figure di relazione ma in qualche modo erano tutte e due rappresentanti etici di una visione della vita verso la quale tutte e due erano servi perché anche il padrone non si sentiva un padrone si sentiva a sua volta servo dell'imperatore cioè tutti erano servi di questo ideale paterno che loro sentivano come promotore dell'ordine e della giustizia e a un certo punto dopo la morte del servo Jacques l'anziano Jacques comincia la decadenza anche da parte di questo padre quindi il padre comincia a non credere più nei valori dell'impero il figlio si dà all'alcolismo e al gioco e piano piano degenera questo sistema nel mentre si afferma però sempre più un valore creaturale quello del valore mistico della della dignità della persona al di là del destino individuale ecco torna al discorso che avevo fatto all'inizio qual è il vero destino individuale non è la carriera non è la sorte legata ai successi economici esistenziali politici familiari il vero destino è qualcosa di più profondo per cui non esiste in realtà un destino che sia privo di senso non esiste un destino che sia solo negativo perché in qualche modo ogni destino ha un suo profondo significato mistico e creaturale e questo si vede anche in un romanzo tra i suoi più belli cioè Giobbe che come si capisce chiaramente dal titolo rimanda al libro della Bibbia al libro di Giobbe perché qui c'è come al solito uno dei tanti personaggi poco intelligenti ma c'è una bella battuta di Robert Musil nell'Uomo senza qualità in cui egli scrive l'intelligenza non è intelligente che è buffa ma è significativa cioè cos'è l'intelligenza a volte la stupidità a volte più intelligente dell'intelligenza e questo qui chi è? è un maestro che ha 12 allievi ai quali insegna la Bibbia questo è il suo lavoro immaginiamo quanto possa guadagnare però ha moglie e tre figli ed è un uomo puro però faceva e faceva vivere una vita miserevole infatti dice le carote rimpicciolivano le uova erano vuote le patate gelate le minestre acqua le anatre magre le ocche dure i polli un niente però la sua anima era casta a un certo punto a proposito di destino vero a un certo punto nasce un quarto bambino che è malato non sembra non parla dice una volta mamma poi però per dieci anni non parla decidono di trasferirsi in America non se lo portano questo bambino lo affidano alle cure di un medico e vanno a vivere in America dove la famiglia comincia a sistemarsi e qui c'è tutta una serie di scrittori ebrei da Isaac Singer a Bernard Melleman a Philip Roth che è un omonimo ma non ho a che vedere con Joseph americani ebrei americani che sono tra i più grandi scrittori americani tra l'altro e lui è ormai un vecchio un vecchio povero tra l'altro anche la moglie è morta un'altra figlia è malata e a un certo punto bussa alla porta un uomo un bell'uomo giovane alto che chiede del vecchio